ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere e come potete vedere altro video arrivi siamo a metà di dicembre e già mi è arrivata una quantità enorme di pacchetti iniziamo ad aprirne qualcuno insieme vi faccio vedere cosa mi è arrivato in queste prime due settimane di dicembre prima di partire con lo spacchettamento di tutti questi pacchetti però come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video detto questo facciamo un po di spazio e partiamo con l'unboxing in questo periodo ho fatto qualche scambio in più rispetto al solito e partiamo proprio da queste buste andiamo a vedere che cosa mi è arrivato apertura della prima busta ne sono tante e onestamente non ricordo tutto quello che ho ordinato e andremo a vedere insieme prima bustina ci siamo allora c'è la limited 4 di john stone stiamo parlando di match attacks 2021 e la pro shield la pro elite di momo sala uno scambio che ho effettuato con un collezionista di facebook che mi ha mandato queste due carte in cambio di un'altra un altro scudetto e un'altra limited quindi sala mi mancava e mi avvicino verso la fine della collezione altro scambio altro collezionista conosciuto sui gruppi di facebook andiamo a vedere che cosa ho ricevuto ho ricevuto due limited edition ancora match attacks e stiamo parlando di eden hazard e la limited edition 26 e david silva e la limited edition 28 quindi altre due carte che vanno in collezione altro pacchetto un po più piccolo questa volta è questo pacchetto è sempre card ma andiamo direttamente in inghilterra in inghilterra è la collezione adrenalin premier league 2021 2022 mi è arrivata la card l'enticolare di in e ascio in e ascio primo la prima card poi alcune limited edition e ci sono tom cleverly limited edition di ruben neves lionel messi lionel messi in top master fifa world cup catar 2022 o meglio road to fifa world cup 2022 è una delle nove carte super rare top master di preciso è la numero 2 lionel messi e poi altre due limited edition premier league sono daniel james e buka yosaka dell'arsenal quindi quattro limited edition una card lenticolare e lionel messi della collezione road to catar altro pacchetto che ovviamente non so che contiene o meglio lo so ma non lo ricordo andiamo a vedere questo è imballato un po meglio allora piano piano riusciremo ad aprirlo questo è interessante sono un po di instant vediamo da quest'altro lato c'è una seconda parte di questo pacchetto il collezionista con cui ho scambiato ha messo in questo raccoglitore ed è davvero una gran bella idea le card instant che io ho chiesto sono 8 e sono zlatan ibraimovic giovanni simeone duvan zapata pedro quagliarella busio del venezia destro anterebic vediamo un po tra queste card quali sono le più rare allora questa è la numero 4 e messa in 420 copie poi abbiamo 396 380 376 la card di quagliarella ancora un 420 per pedri e pedro scusate 386 la card di zapata 607 copie ovviamente sarà la card di ibraimovic e 395 la card di simeone quindi la card tra queste più rara è sicuramente la card di quagliarella è stata stampata in sole 376 copie ed è la numero 9 pacchetto davvero ben fatto ringrazio il venditore in questo caso da cui ho acquistato e passiamo all'ultimo pacchetto scambio per questo scambio ragazzi devo ringraziare l'amico collezionista andrea del canale youtube ronza 994 vi lascio il link in descrizione per chi di voi non lo conosce al suo canale ronza 994 è davvero un canale molto interessante è molto ferrato soprattutto sulle collezioni adrenaline e match attacks stiamo parlando di di card ragazzi di card tanti contenuti interessanti anche abbastanza diversi dagli altri quindi se siete interessati se volete andare a dare un'occhiata ronza 994 vi lascio il link in descrizione grazie andrea adesso andiamo a vedere che cosa mi hai mandato allora ci sono sono tutte card della collezione match attacks di quest'anno 2021 2022 sono le limited numero 17 la limited numero 30 sono verratti e al caser poi altre card che non riesco non riuscivo a trovare con tanta semplicità sono le card heritage e sono quella di cristian teio musiala angel di maria e car spes michael per finire la card 100 club di trent alexander arnold che mi serviva a terminare la card per terminare la card 100 club di trent alexander arnold che mi serviva a terminare la serie delle card 100 club quindi adesso sono concluse andiamo avanti vi faccio solo vedere questa team box l'ho acquistata su amazon champions league 2021 2022 e non ho ancora portato nessun contenuto su questa raccolta l'ho iniziata e devo dire che è veramente veramente bella prossimamente sul canale porterò un video dedicato proprio a questa raccolta vi faccio vedere un po' a che punto sto messo con l'album ci andremo ad aprire qualche pacchetto insieme ma le figurine meritano davvero tanto ultimo pacco ma non per importanza mi è arrivato finalmente dall'inghilterra questo mega pack dalla match attacks dalla tops anche questo ragazzi ce lo andremo ad aprire in un video dedicato perché dobbiamo dedicarci un po' di tempo allora sono gli aggiornamenti inglesi della raccolta match attacks sono gli update pack 1 e 2 3 e 4 quelli con le card diciamo la versione internazionale che è quella che si trova anche in francia e germania con tutte le card aggiornamento per la raccolta ci sono la card hat trick hero di messi e di ronaldo entrambi in maglia psg e manchester united questo ci andiamo a dedicare un video insieme a questi altri due multi pack di aggiornamento che mi sono arrivati e sono gli update pack 1 e 2 queste sono le card versione scozzese in questi due aggiornamenti si possono trovare le card esclusive delle squadre scozzesi di rangers e celtic sono 28 card esclusive 14 per quanto riguarda il celtic e 14 per quanto riguarda il rangers che si trovano in questi due update ovviamente come sempre questi multi pack avranno un pacchetto dedicato a queste card e poi un altro pacchetto in cui si trovano le 12 card le 12 card della raccolta che possono essere card base o insomma qualsiasi tipo di card e con gli update pack versione inglese e scozzese termina qui il video dedicato agli acquisti della prima metà di dicembre mese che si preannuncia davvero caldissimo il video dedicato agli acquisti e gli scambi come dicevo sicuramente tanto materiale molto molto interessante tra le cose più belle c'è sicuramente la card top master di Lionel Messi che ho acquistato e la pro elite di Momo Salah che ho scambiato in questo caso materiale veramente interessante e anche difficile da trovare spero che il video vi sia piaciuto prima di salutarvi però come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a pubblicare sul canale e schiacciare un bel like al video detto questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao